E' stato arrestato per stalking un uomo di 49 anni che perseguitava già da tempo una donna che non aveva ceduto alle sue avance. L'uomo è stato fermato dalla polizia e trovato in possesso di un mattarello e un cutter, oggetti trovati nella macchina del soggetto in questione. L'opera di persecuzione avveniva già da tempo ed era già stato denunciato dalla donna. Gli agenti lo hanno trovato in via Fasci Siciliani, ancora sul posto e per questa ragione colto in fragranza di reato, deve rispondere di atti persecutori, aggravati, porta abusivo di oggetti ad offendere.